Oggi pomeriggio abbiamo fatto un progetto idea di un oggetto ideale che ci manca in cucina. I grassi tendono a rompere proprio la plastica, si la cristallizzano, la plastica è inteso in un certo tipo di plastica. Siamo stati abbastanza creativi, anche se all'inizio abbiamo sofferto molto, c'è stato il primo momento di imbarazzo iniziale con l'idea proprio triste, cioè partenza down e poi siamo andati. L'ufficio Prototipi, praticamente prima di farli lavorare su un progetto che poi consegneremo l'ora natale, un piccolo accessorio gadget, e gli abbiamo fatto fare una visita qua che è praticamente il cuore dell'azienda. E siamo anche soddisfatti, secondo me. Non vedo l'ora che mi arrivi a casa. Le dimensioni, questo dovrebbe essere da ipatiche, porta ipatiche. In pratica, questo è visto dal lato. Basta avere un pezzo, una lamina di metà di acciaio. Pigno intercambiabile perché può essere lavata, ci può mettere anche un cioccolato di muore. Ed è bella, ma bisogna poterla realizzare. La fattibilità, fattibilità. Devo essere un'asta che ognuno a suo modo aveva, e poi in base anche proprio alla necessità, no? La mia, su tutte ovviamente. L'altra è il posacenere che si illumina. Secondo me quella avrà un futuro. Ciao Elika, grazie. Ciao Elika, grazie di tutto. A presto. Ciao Elika, grazie. Ciao Elika e grazie per aver pensato anche al viaggio di ritorno. Oltre a tutta la bellissima accoglienza. Oltre a tutta la bellissima accoglienza. Oltre a tutta la bellissima accoglienza.